ciao a tutti ben ritrovati e benvenuti sul mio canale sono angela una pasticcione in cucina e questa sera ho preparato le fettuccine ai funghi vi auguro una buona visione volevo mostrarvi come alla fine ha utilizzato io le fettuccine quelle che ho preparato senza l'utilizzo delle uova se ti sei perso il video nell'info box ti metto il link per rivederlo padella mettete olio evo unite lo scalogno tritato in cui vi ricordo che nell'info box vi trascrivo gli ingredienti aggiungete i fondi insaporite con un pochino di sale un pochino di pepe aggiungo anche un po di funghi surgelati sono quelle confezioni di funghi misti con i porcini metto un po di vino bianco fatelo evaporare fate cuocere prima di terminare la cottura vado ad aggiungere un pochino di prezzemolo un pochino di prezzemolo la cottura dei funghi è terminata quindi vado a spegnere il gas il gas insomma vabbè il piano induzione ne vado a prendere un pochino di questi e gli altri li lascio qui così questa è la quantità anche quelli che ho preso per evitare il video diventa troppo lungo io ho già buttato giù le fettuccine come potete vedere ho ripreso qui il contenitore adesso vado a prendere poca acqua dove sta cuocendo le fettuccine mettete anche un po di parmigiano e frulliamo ecco cosa dobbiamo ottenere ecco Grazie. Grazie. Siamo pronti per impiattare. Grazie. Ciao ciao e alla prossima ricetta.